A Roma, sulla piazza del Campidoglio, viene consegnato alla Croce Rossa italiana un dono offerto da enti e privati americani e italo-americani, 30 nuove auto-ambulanze fornite di ogni conforto sanitario. La cerimonia si svolge alla presenza di Monsignor Ferrero di Cavallerleone, del Principe Doria, dell'ambasciatore Myron Taylor, questi parla a nome della fratellanza italo-americana. Il Principe Doria risponde con parole di ringraziamento, oltre che un atto generoso, questo dono è un simbolo, è come una promessa della pace che allevierà i dolori e le miserie umane. Monsignor Ferrero impartisce la benedizione e come una benedizione giungeranno in aiuto di coloro che soffrono queste veloci macchine che la nostra Croce Rossa ha destinate alle zone maggiormente sinistrate dalla guerra.